Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale, oggi vi presentiamo un bel volume appena pubblicato da TAB Edizioni dal titolo Prima etate, studio Super Trarca e il canzoniere di Paolo Rigo, che abbiamo il piacere di avere nostro ospite, perché ci parli di questo interessante volume e come mia abitudine io lascio subito la parola al nostro ospite, quindi prego a lei. Bene, allora la ringrazio dell'occasione, ma che dire, diciamo che un piccolo volume, un omaggio a Petrarca in un anno un po' particolare, perché senza invia teorica sarebbero i 650 anni dalla morte di Petrarca in questo 2024, però devo dire che tutto sommato, essendo una sorta di centenario a metà, che non è proprio un centenario, no, è un cinquantenario, è stato un anno un po' avaro di ricorrenze per Petrarca. E allora, avendo avuto vari rapporti con la casa editrice TAB, mi era stata proposta l'idea di raccogliere alcuni miei passati lavori su Petrarca, che è un po' il mio cavallo di battaglia in un certo senso come studioso, siccome diversi lavori giravano intorno a una questione fondamentale, cioè il rapporto di Petrarca con i poeti della generazione precedente, quindi con Dante, con Cavalcante, con Cino da Pistoia, beh, allora si era pensato, insomma, di rivedere questi studi, trasformandoli in capitoli, quindi dando una organizzazione più organica a ogni singolo lavoro, e poi pubblicarli tutti insieme con alcune aggiunte inedite, con alcune riflessioni che all'epoca della scrittura dei saggi originari non avevo fatto, insomma non mi ero accorto. Questo è un po' il volume. Vi sono poi alcuni riferimenti anche alla stagione, abbiamo notato che questi saggi guardavano non solo alla produzione poetica precedente, quindi diciamo alle fonti di Petrarca, ma anche insistevano in particolar modo su una serie di testi che tutto sommato, diciamo, possiamo dire che tornano, vanno collocati nella giovinezza di Petrarca. Giovinezza logicamente apparente, cioè non reale, però insomma sempre a quella età, l'età giovane, l'età dell'amore, da cui il titolo Prima Etate, che è però una citazione non del canzoniere, ma di un'opera latina di Petrarca. La scelta è, logicamente, come dire, un piccolo gioco con chi legge. Non alla canzone nel dolce tempo della Prima Etate, ma a una familiare in cui Petrarca parla effettivamente della poesia del volgare di Dante e afferma che il tempo della poesia in volgare è quello dell'età giovanile, cioè della prima etate in latino. E quindi ho pensato, insomma, notando come questo sintagma, tutto sommato, ritorni sia in volgare sia in latino, con la minima differenza grafematica e fonetica, ho pensato che, insomma, fosse un bel modo per inquadrare il problema. Questo è più o meno il libro. Il potere della sintesi? Sì. No, perché effettivamente ero curioso di capire che cosa si offre al lettore all'interno di questo volume e quindi lei mi ha detto, i saggi che sono stati rivisti e risistemati per capitoli. Tutto qui? Non possiamo dire nulla di più? Beh, possiamo parlare un po', insomma, diciamo, dei vari capitoli, se crede, a meno che non abbia domande specifiche, insomma. Non avendo letto il libro, non... Ah, ancora? Ok, benissimo, benissimo. Allora, lo presento un po', ecco, diciamo che il primo capitolo affronta una questione grammaticale da vicino, cioè un pronome altrui nel canzoniere, nell'uso che ne fa Pedrarca, è un pronome un po' particolare, perché, diciamo, è il pronome della vaghezza poetica, secondo una studiosa che si è occupata del canzoniere. Ho fatto un'importante analisi, un importante commento al canzoniere, cioè Rossanna Bettarini ha fatto l'edizione in due volumi delle Naudi. E, ecco, la problematica del pronome qual è, logicamente? È una problematica che deriva dal fatto che altrui potrebbe avere anche un valore singolare, ha un valore plurale, potrebbe anche alludere semplicemente a una generica persona, quindi alla Laura stessa, insomma, alla protagonista femminile del canzoniere. E, diciamo che questo pronome problematizza, e non poco, alcuni sonetti del canzoniere. Uno, in particolar modo, è RVF16, Movesilvecchierelle. Perché lo problematizza? Perché questo sonetto ha una struttura un po' particolare. È costituito da una lunghissima similitudine, evidentemente undici versi, in cui qualcosa si descrive. Il secondo elemento della similitudine. Cioè, questo anziano signore, Movesilvecchierelle, vecchierelle che si reca a Roma per vedere la Veronica, c'è un'immagine sagra, questa similitudine si interrompe nell'ultima terzina del sonetto con un così. Come fa il vecchierello così? Io cerco Laura, la forma vera di Laura, in altrui. Ecco, che cosa vuol dire questo in altrui, quindi? Questa è un po' la domanda. Quello che ho cercato di fare in questo capitolo è andare a vedere un po' il significato, diciamo, più facile nelle altre occorrenze del canzoniere. Cioè, in quei luoghi dove siamo un po' più sicuri. Noto questa ambiguità del termine e poi propongo una mia interpretazione di questo altrui che però, insomma, non svelo perché sennò nessuno comprerebbe il libro. Poi, che cos'altro posso dire? Abbiamo parlato di prima età. La prima età è anche un'età memoriale, è anche qualcosa che in un certo senso non esiste. È anche un sogno, un desiderio. Il sogno di Petrarca, il grande sogno di Petrarca, è il sogno dell'umanesimo, come ci ha insegnato uno studioso scomparso da poco, Francisco Rico. Ebbene, quel desiderio, quel sogno, quella vaghezza, si concretizza in un certo senso in Petrarca. Si concretizza in due modi. In un modo che è quello della scrittura. Tutti noi diamo concretezza e peso ai nostri sogni attraverso le parole scritte e fissate nel tempo, no? Non è una lezione che nasce con Petrarca, ma è una lezione che risale all'origine dell'uomo e all'origine della scrittura. E che nel Novecento, che probabilmente è il secolo della memoria, trova delle applicazioni straordinarie. Un po', apro qualche piccola parentesi, però per esempio, come non possiamo ricordare Proust, attraverso quel meraviglioso ingranaggio che la ricerce, noi troviamo davvero la concretizzazione di un tempo perduto. E questa è la dimensione letteraria, la sua magia, la sua forza. Tuttavia, per Petrarca, la concretizzazione del tempo ha anche un milieu fisico, reale, materiale. Ed è Roma, la grande città dell'antichità, il sogno di una classicità che ancora vuole vivere nell'epoca di Petrarca. Nel Trecento noi assistiamo a un tentativo di rivoluzione promosso da un amico di Petrarca, da Cola di Rienzi, noto tribuno, personaggio che poi è diventato anche letterario. E Cola che cosa dice? Dice che la città, i soldoni, che la città deve essere restaurata, che Roma è grande, che Roma è sempre stata grande. Per Petrarca questa utopia è reale, tant'è che si metterà in prima persona a cercare di aiutare Cola. Ma non è solo politica, è anche concreta. Concreta come? Concreta con i viaggi a Roma. Petrarca ci lascia delle testimonianze straordinarie dei suoi viaggi e le pagine dedicate ai viaggi a Roma sono davvero stratosferiche. C'è questa antichità, questa memoria dell'antichità che rivive nelle rovine, nei fasti, appena percepiti di Roma, questo rinnovamento culturale che quindi è anche solido. E proprio a questo tema, a quei viaggi, al problema della memoria dell'autore, all'idea di un tempo che è un tempo liquido per Petrarca. È un tempo che non si ferma. Quando Petrarca descrive nella canzone delle metamorfosi quello che provava per Laura, scrive ci penso, lo scrivo e mentre lo scrivo ancora tre. Cioè c'è un'idea concreta di questo passato che è vivo. Quindi a questo doppio rapporto tra letteratura e viaggi a Roma è dedicato il secondo capitolo che è diviso in due parti. Perché in realtà questa memoria meravigliosa di Roma può, o meglio, si scontra anche con lo stato della città della città e dei suoi possedimenti. Parlato di Cola c'è anche un altro passato che rivive ed è quello della Roma in preda ai barbari che Petrarca in un certo senso rivede nelle faide baronali e addirittura in un certo senso il momento della sua vita è protagonista di alcuni scontri militari. Noi abbiamo un'idea di Petrarca che è un po' agé. Abbiamo l'idea di un Petrarca mezzo prete quella che ci dà De Santis che è innamorato di Laura e passa il suo tempo diciamo in chiesa e ogni tanto in qualche piccolo momento erotico. Ma in realtà Petrarca ha vissuto una vita avventurosa anzi addirittura più avventurosa di Dante forse. Dante certo ha subito l'esilio è stato costretto a pagare di corte in corte è stato un importantissimo politico del suo tempo ma Petrarca si è trovato almeno una volta forse due addirittura in assedi i scontri militari non ha combattuto ma era lì li ha visti e in un caso nel primo viaggio verso Roma Petrarca è costretto a rimanere a rimanere alcuni giorni forse più di alcuni giorni addirittura alcune settimane se non mesi presso il castello di Orso dell'Anguillara nella campagna romana Orso era un importante politico del tempo più di quanto noi riusciamo a percepire in realtà ed era un alleato dei Colonna aveva riaperto una faida con la famiglia degli Orsini vecchi alleati degli Anguillara come si capisce anche dal nome Orso perché in omaggio ai vecchi padroni e in questa faida mentre Petrarca diciamo in viaggio verso Roma forse anche diciamo va a Roma per la prima volta anche per svolgere una missione diplomatica questo è un piccolo mistero a cui cerco di dare una risposta si ritrova immischiato in questa faida in questo assedio e come si sente Petrarca durante questo assedio fuori ci sono i barbari dentro il castello c'è Orso che rappresenta la giustizia l'ultimo romano assediato all'esterno e Petrarca è un poeta beh io ho un po' tentato di dimostrare come nelle descrizioni che fa Petrarca di questo assedio riecheggi chi Ovidio l'ultima Tomi è l'Ovidio perso tra i barbari dell'attuale più o meno Romania Bulgaria insomma est europeo che rivive nel castello degli Anguillara con Petrarca che praticamente se ne fa maschera a proposito di maschere se lei ha qualche domanda logicamente mi interrompi pure a proposito di maschere forse la maschera più importante il fantasma con cui Petrarca ha avuto a che fare durante tutta la sua vita è Dante Alighieri no? ecco non è una novità indagare il rapporto di Dante con Petrarca i prestiti le riprese assolutamente no ormai abbiamo una bibliografia vastissima io provo un po' a ricordarla nel mio contributo tutta questa bibliografia e solo a fare l'elenco praticamente se ne vanno via cinque pagine di note e sicuramente non è un elenco completo ma è inevitabile che sia così però vorrei ricordare giusto un paio di grandi contributi grandi volumi proprio su questi argomenti di studiosi che non solo mi hanno preceduto ma hanno detto cose veramente importanti cioè Marco Santagata e Franco Switten su questi rapporti interdiscorsivi intertestuali tuttavia negli ultimi anni a quei metodi di indagine proprio attenti al dato testuale se ne sono affiancati altri uno in particolare ha suscitato in me molto fascino cioè quello di Peter Kuhn che ha scritto un libro meraviglioso Laura L apostrofo Aura Dantesca dedicato quindi a queste continue riprese per immagini della commedia del canzoniere ecco io ho tentato un po' di fare qualcosa di simile dopo aver analizzato proprio la critica dedicata alla disciplina Dante e Pedrarca io insegno storia della critica all'università quindi diciamo un po' un mio pallino quello di vedere quello che hanno fatto gli altri e poi ho tentato di applicare il metodo Kuhn non al rapporto commedia canzoniere fragmenta ma al rapporto col libro della giovinezza di Dante cioè la vita nova a la prima parte dei fragmenta cioè quelli che su un piano ideale come dicevo sono dedicati alla prima etate seguono due capitoli che hanno più o meno la stessa impostazione uno un po' più corto l'altro un po' più lungo dedicati agli altri due poeti della triade volgare dell'epoca della grande triade che precede Pedrarca cioè Guido Cavalcanti e Cino da Pistoia si tratta di affondi un po' particolari perché perché Pedrarca ci autorizza a dire che quelli sono i suoi modelli lo fa nella canzone rvf 70 la canzone con autorità come sappiamo tutti sono queste stanze che si chiudono con un verso di un altro poeta un po' uno pseudo Arnao Daniel che lui pensava fosse Arnao Daniel Dante Alighieri Cavalcanti Cino da Pistoia Pedrarca stesso nel dolce tempo della prima età come tutto torna sempre e comunque ecco il problema qual è che Cavalcanti entrambi i poeti sia Cavalcanti sia Cino sono a volte difficili da distinguere lo sono Cavalcanti lo è rispetto ai minori lo è rispetto a Dino Frescobaldi lo è rispetto a Gianni Alfani però tutto sommato la sua poetica a volte almeno parte della sua poetica sembra forte la fortuna che ha avuto Donna me prega insomma tanto per fare un esempio la canzone più celebre però è chiaro che non basta una canzone per determinare un rapporto se cerchiamo soprattutto un rapporto un po' più organico quindi provo un po' a interrogarmi su alcuni momenti in cui secondo me la voce di Cavalcanti è un pochino più forte il capitolo di Cino soffre invece che cosa è proprio il flatus cioè la voce ciniana che è delicata lineare pulita proprio come quella di Petrarch non che Dante o gli altri non lo siano è per carità però quella dolcezza quella dulcedo che è tipica di Cino nonostante poi il canzoniere le rime di Cino siano ricchissime di dolore di morte e via dicendo è senz'altro a livello quasi superficiale la prima chiave di lettura tutti ricordiamo ancora una volta le grandi lezioni della scuola storica Cino poeta a metà tra Dante e Petrarca Petrarca primo allievo di Cino ma che significa primo allievo riprendendo sempre quello che hanno fatto altri prima di me però un po' più a contestualizzare e a porre sotto una lente critica in parte diversa quello che grandi studiosi del passato hanno detto l'ultimo capitolo è dedicato invece a una questione diciamo ermenentica cioè il rapporto tra letteratura e arte nel Petrarca diciamo sempre giovanile visto attraverso una chiave di lettura che riguarda il concetto relativamente moderno perché magari gli abbiamo dato questo nome al di là di problematiche attributive lo pseudolongino comunque con la tematica diciamo col concetto di sublime questo è un po' il tema dell'ultimo capitolo ed è un po' problema diciamo affrontare il nodo da Petrarca arte non fosse altro perché perché Petrarca vive in un'epoca in cui l'arte ha ormai raggiunto di nuovo per il medioevo un suo statuto ontologico forte sono stati grandi artisti c'è stato Giotto c'è Simone Martini cui Petrarca stringe dei rapporti tuttavia Petrarca come si pone davanti all'arte Petrarca è un collezionista di opere d'arte Petrarca aveva alcuni disegni aveva una testa dimorente forse una statuina aveva un crocifisso a cui era molto legato però il pensiero di Petrarca è contro le immagini è un pensiero platonico agostiniano allora come legare questa apparente contraddizione ecco la mia risposta è che Petrarca in realtà non sia non è davvero contro le immagini ma è contro diciamo una visione appunto un po' platonizzante è per la verità delle cose oltre lo specchio superficiale però oltre questo non vado perché insomma come al solito vorrei che qualche copia la comprasse scherzo no no ma sicuramente questo è il senso di questa videopresentazione credo che così abbiano tutti gli elementi per poter acquistare il volume quindi io come mia abitudine ricordo il titolo e invito tutti ad andare in libreria il titolo è prima etate studio su Petrarca e il canzoniere di Paolo Rigo che abbiamo appena avuto il piacere di avere con noi e appena pubblicato da TAB edizioni quindi correte in libreria fatelo vostro e passateci una bella estate insieme una bella etate insieme grazie 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 davvero ci sta molto sì quindi a tutti voi invece ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove trovate tutte le altre videopresentazioni realizzate fino ad oggi grazie ancora e a presto arrivederci grazie a lei grazie